Siamo insieme al nostro ospite di oggi, Ullas Tankler, Regional Executive per Europa, Eurasia e per il Nord Africa per quanto riguarda la United Methodist Church. Benvenuto. L'Estonia è uno tra i paesi più secolarizzati al mondo, è uno dei paesi in cui una grande parte della popolazione non si definisce religiosa. Ecco allora, la domanda prima di tutto è questa, ovvero qual è il ruolo di una Chiesa all'interno di un paese così secolarizzato? Il ruolo della Chiesa è un qualcosa che dobbiamo sempre comprendere. Prima di tutto, qualche informazione di base. Ci sono diverse ricerche che forniscono statistiche diverse sulla religiosità delle persone e per esempio ci sono persone che si considerano luterane, ma non cristiane. Ecco, questo potrebbe suonare strano, ma ci dice anche che per alcune persone essere di nazionalità estone significa anche essere luterano, che tu creda in Dio oppure no. Un'altra questione è invece quella del forte interesse ai temi della spiritualità, anche se, come dicevamo, l'Estonia è molto secolarizzata. Le persone credono in molte cose perché la religiosità non significa soltanto credere in Dio oppure no. Parlando come Chiese invece la questione è molto semplice. Circa il 2% della popolazione va in Chiesa, in una normale domenica. Lasciando da parte Natale o altre festività, nessuno va in Chiesa. Questa è la situazione in cui inserire la riflessione sul ruolo della Chiesa. Dobbiamo tenere presente che anche se l'Estonia è un paese storicamente luterano, non possiamo più dare per scontato nulla. Per esempio, non possiamo supporre che se la nostra Chiesa prende una posizione, tutti la ascoltino o le dedichino attenzione. Insomma, nessuno dedica attenzione. Per contro, essere o diventare un gruppo così marginale nella società rende ancora più interessante quando la Chiesa dice qualcosa, ma significa anche che ogni affermazione deve essere molto ben argomentata, molto solida. Una delle maggiori aree di discussione sul tavolo del discorso pubblico riguarda i migranti. Rimaniamo ancora in Estonia per un'altra questione, poi allargheremo un po' il nostro campo di analisi. L'altra religione maggiormente rappresentata, l'altra Chiesa maggiormente rappresentata è quella ortodossa, grazie anche alla presenza abbastanza consistente di una minoranza russa. Ecco, tra Chiese che a questo punto sono tutte Chiese di minoranza, come funziona il dialogo quotidiano? Questa è una domanda a cui mi piace rispondere, perché secondo me l'Estonia può essere un buon esempio per molti altri Paesi. Abbiamo un Consiglio delle Chiese molto ben funzionante. Ben funzionante significa che c'è una grande varietà di denominazioni rappresentate e tutte lavorano molto bene insieme. Da un lato ci sono i cattolici, dall'altra i pentecostali e gli avventisti del settimo giorno. E tutte queste denominazioni si siedono allo stesso tavolo, mantenendo ottime relazioni. Questo riguarda anche gli ortodossi russi. Parlando della minoranza russa, che è in effetti molto forte, credo vicina al 30% della popolazione, abbiamo circa un terzo di membri di Chiesa russofoni e due terzi di nazionalità estone. E anche questo è un elemento che ci dice che potremmo essere un modello, perché per noi i confini legati alla nazionalità non sono un problema. C'è tuttavia un problema che emerge a livello di società e di dibattito pubblico. A volte dalla società ci arriva una domanda. Perché le Chiese non dicono chiaramente qual è la loro posizione su alcuni temi caldi? E credo che le difficoltà in questo senso siano relative alla varietà delle Chiese rappresentate nel Consiglio. Teologicamente è molto difficile mettersi insieme e dire ecco cosa pensano le Chiese, perché i cattolici, gli ortodossi, i metodisti, i pentecostali, ognuno ha posizioni di parte differenti. E mantenere dei rapporti amichevoli e di collaborazione significa che non è sempre possibile dare un chiaro messaggio su questioni sulle quali invece la società avrebbe bisogno di sentire una voce. Passiamo a un livello globale perché il suo lavoro come rappresentante per Europa, Eurasia e Nord Africa per la United Methodist Church impone naturalmente una riflessione su un livello differente. Ecco allora, su questo piano le problematiche sono simili a quelle che ha raccontato finora o invece dobbiamo passare a un livello differente? È un'ottima domanda e la risposta richiederà un po' di tempo. Proverò a dare qualche indicazione su alcune questioni che ho riscontrato nella mia esperienza. Ci sono Chiese e denominazioni, così come confessioni cristiane, che sono più legate ad una dimensione nazionale e altre che invece si riconoscono maggiormente in forma internazionale. Quello che intendo per esempio in Estonia è che la maggior parte degli estoni storicamente si identifica come Chiesa Luterana, quindi la Chiesa si rappresenta in modo più caratterizzato a livello di nazionalità, anche se esistono forti connessioni internazionali. In Lituania invece la presenza cattolica è più forte e i lituani si sentono più strettamente connessi alla Chiesa Cattolica. In Russia invece la percezione è che per essere un vero russo si debba essere un vero ortodosso, con una caratterizzazione nazionale forte. Io rappresento la United Methodist Church e tra di noi ci sono molte Chiese che si identificano in modo forte, con la dimensione globale, ma con problematiche molto differenti. Prima dicevo che in Estonia abbiamo un'ottima cooperazione tra le varie Chiese, ma per esempio in Russia i metodisti non riescono a dialogare con la Chiesa Ortodossa perché il sentimento nazionalista è molto forte. E poi perché gli ortodossi trovano inaccettabile la presenza di molti pastori donne nella Chiesa Metodista. Un'altra questione è quella relativa ai migranti in Europa, che non è niente di nuovo per l'Italia, la Germania o la Francia, ma è relativamente nuovo per molti paesi dell'Europa orientale. In Estonia non abbiamo mai avuto una presenza significativa di stranieri, così come in Ungheria o in altri paesi, e quindi per noi è una novità, che nella popolazione trova grandi resistenze. In effetti c'è un motivo. In Estonia c'è una forte memoria nazionale di come l'Unione Sovietica portò forzatamente a una russificazione del paese per cancellare l'identità e la lingua estone, ed è per questo che ancora oggi c'è una forte resistenza contro le migrazioni forzate. Oggi viviamo in una società libera e la situazione è differente, ma la nostra memoria storica ci influenza, e questo ci porta a chiederci ancora una volta quale sia il ruolo di una Chiesa su un tema come questo. In una prospettiva biblica Dio ci ricorda che dobbiamo accogliere gli stranieri, perché ci dice, voi sapete cosa significa essere uno straniero, e per questo dobbiamo praticare l'accoglienza degli altri. Ecco, questi sono temi che posso individuare in diversi paesi, ed è uno dei motivi per cui sono qui. Sono già stato qui in passato, ho tenuto contatti regolari con la Chiesa Metodista in Italia, e ho avuto grandi spunti dai metodisti e dai valdesi qui, proprio per il modo in cui hanno risposto, tra le altre cose, alla questione dei migranti, per capire cosa può fare una minoranza e come possa cooperare con gli altri per rispondere alle emergenze che dobbiamo affrontare. Naturalmente la dimensione è differente, e voi in Italia avete gruppi enormi di persone da gestire, ma le piccole chiese hanno detto vogliamo fare la differenza, e vogliamo fare tutto ciò che possiamo e sappiamo. E noi, come piccole chiese dell'Europa dell'Est, vogliamo capire come le chiese di minoranza possano collaborare con gli altri. Spero di aver risposto alla tua domanda. No, direi che va benissimo. Grazie mille a Willa Stankler per la sua disponibilità, per averci raccontato alcuni degli aspetti del suo lavoro. Ovviamente ci sarebbe ancora molto da dire, ma per il momento ci fermiamo qui. Grazie mille. Thank you. Thank you very much. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie.